In quattro giorni ci sono state tre risse, due accoltolamenti e una risa, la notte un'altra risa, per cui la situazione è sfuggita di mano, ma è tanto tempo che lo diciamo. È diventata totalmente fuori controllo, io credo che sia il caso di intervenire prima che sia troppo tardi. Sale l'allarme e sicurezza ai giardini del Porcinai. Violente risse, un tentato omicidio, spaccio e degrado, quanto denunciano residenti e commercianti ormai da tempo. I stanze che adesso sono state portate direttamente a Palazzo Cavallo. Un gruppo di cittadini al motto di meno slogan più sicurezza hanno infatti presenziato al Consiglio Comunale per richiamare l'attenzione sull'escalation di episodi violenti nella zona. Hanno detto proprio che hanno anche paura passare di lì a volte, se si fa il buio, no io non vengo perché ho paura, perché c'è gente strana e quindi insomma non è una bella cosa per noi. Mancano tante cose, ci sarebbe da fare un lungo elenco, però per prima cosa i controlli. Le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti nei giorni scorsi avevano scritto anche al prefetto di Arezzo per chiedere un incontro programmato per la settimana successiva al 25 aprile. Io ci ho fatto caso che la mia clientela è diminuita, quasi dimezzata in un anno. In un momento come questo in cui investiamo, la città investe tanto in turismo e anche con buoni risultati obiettivamente, avere un ingresso del genere in città è assurdo. Risse, continui, schiamazzi, la gente si impaurisce. Io già da due mesi a questa parte percepisco sicuramente molta più insicurezza nei miei ospiti. L'area attende anche la riqualificazione come annunciato dalla stessa amministrazione comunale. Ma se la zona non viene riqualificata, quindi fatta vivere, è inutile, perché tanto le telecamere poi servono quello così, lascialo il tempo che trovo, perché certa gente non ha niente da perdere. Bisogna trovare qualche soluzione a quei ragazzi che si riuniscono lì, perché è inutile fare la reabilitazione della zona se poi torneranno lì. Ecco, allora per loro c'è da inventare un programma, un'integrazione, un qualcosa che non facciano questa cosa lì per strada.